Facciamo un po' di nuovo lento, un po' più piano, così la vedete. Questa è la seconda volta, vorrei fare con voi quell'altra DH a 100 metri, non riconosco. Grazie a tutti. Chicken line. Chicken line. Grazie a tutti. 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 Bye. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.